Come si era prefissato il commissario straordinario all'emergenza figliolo, più dell'80% degli italiani sopra i 12 anni è immunizzato. L'85% ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-covid. Secondo il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, i vaccini hanno mostrato un'efficacia del 90% nel prevenire la malattia in forma grave nei primi sei mesi dalla seconda dose. Mentre uno studio degli scienziati dell'Università Torvergata di Roma dimostra che i vaccini danno un'immunità più alta rispetto agli anticorpi prodotti dalle persone guarite dopo l'infezione. Grazie all'efficacia dei vaccini si valuta di applicare l'isolamento per tutta la classe se il virus colpisce un bambino da 0 a 6 anni e invece abolire la quarantena per gli studenti più grandi con un caso positivo in classe, ma applicare la sorveglianza con i tamponi. E di questo passo, dice il sottosegretario alla salute Andrea Costa, sarà possibile eventualmente ridurre l'attuale applicazione del Green Pass con l'inizio del nuovo anno. Il farmaco della Roche con anticorpi monoclonali per abbattere la carica virale è sotto valutazione dell'EMA, Agenzia Europea per i Medicinali, che potrebbe autorizzarne l'immissione in commercio nel giro di uno o due mesi. 1.516 i nuovi contagi in Italia con un tasso di positività all'1,3%, 34 i decessi nelle ultime 24 ore.